33. Dall'io al non-io. Domanda. Da dove inizia l'evoluzione sulla Terra? Guida. Dal mondo minerale e in particolare dal cristallo. Domanda. Perché dal cristallo? Guida. Perché da questo individuo inizia l'evoluzione che nel mondo minerale consiste nella velocità di cristallizzazione. Domanda. Qual è un minerale evoluto? Guida. La lava. Perché si cristallizza molto velocemente. Domanda. L'evoluzione come continua? Guida. Come già vi abbiamo detto da più fonti, continua nel mondo vegetale e animale, fino a raggiungere l'evoluzione umana. Domanda. È l'evoluzione umana quando termina? Guida. Termina nell'individuo che voi chiamate santo, o evoluto, o maatma, o superuomo, nel senso di maggiore dell'uomo, secondo le vostre definizioni. Domanda. Quando l'individuo diventa evoluto? Guida. L'individuo non diventa, si scopre evoluto quando è morto a se stesso, quando ha consumato il suo egoismo, quando ha abbattuto la sua mente, che è il suo io, quando ha terminato il tragitto evolutivo che lo conduce dall'io al non io. Il suo egoismo è un'evoluzione, dell'individuo diventa evoluto. Il suo egoismo, dove vittorio a un'evoluzione,